Grazie a tutti. 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 , tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. che entri in nostra casa e per questo noi questa tardi qui che la accompagniamo che si è traslato a sua casa a sua ermita noi abbiamo che dire che abri i nostri corazzi per che entri Gesù perché Gesù è il Signore è nostra salvazione è uguale che siamo alti o baixi è uguale che siamo più visti per la gente o meglio visti per la gente Saqueo era bajo estatura Saqueo era più ben un sinvergüenza perché era pubblicano e si aprovechava nel cobrar gli impuestos però, sin embargo Saqueo si alegra quando Gesù gli dice che vuole andare a cuore a sua casa per questo la peticione a nostra madre deve essere che sì che entri Gesù che abri i nostri corazzoni per che possa entra Gesù il Signore nostra salvazione perché sto sicuro e sto convencido e è una firme convicione in mia vita che Gesù è la salvazione per quelli che le buscano uguale che quello che Gesù è che è che che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.